Ecco, la NASA spreca tempo, denaro, missili, tecnologia, ma come si può riuscire ad arrivare sulla Luna? Ecco, si prendono un paio di forbici, queste sono pure sporche del peperoncino perché ce l'ho tagliato del peperoncino, è un foglio di carta, con un paio di forbici e un foglio di carta arriviamo sulla Luna, cioè in che modo? Ce lo spiega questa persona che io adesso non lo conosco, me l'hanno segnalato, mi ha detto specchio perché non fai un video su questa persona che è una persona molto, diciamo così, è un divulgatore scientifico, credo sia un divulgatore scientifico, quindi con un piccione prendiamo due fave, o con due fave e un piccione, vabbè, guardiamo, guardiamo. E lo faccio vedere agli spettatori, prendiamo un foglio di carta Antonia, proviamo a... Io sto a distanza. Tranquilla, lo dividiamo a metà, ecco, il foglio di carta rappresenta il contagio, adesso sono due i contagiati, Se questi contagiati, come avviene all'inizio delle epidemie, diffondono il virus, ecco che diventano quattro. E poi ancora si raddoppia, perché questa è la caratteristica del contagio, che ogni certo intervallo di tempo, circa tre giorni, in questo caso raddoppiano. Vedete, ad ogni taglio stanno raddoppiando. La cosa sorprendente, per farvi capire quanto la progressione è rapida, è che io ho fatto sette tagli ed ho ottenuto 128 pezzetti di carta. Se di tagli ne avessi fatti 42, questa, ipoteticamente, questa pila sarebbe alta quanto dalla Terra alla Luna. Ecco, quindi è la necessità, e concludo qui, indifferibile di contenere questa fase. La scienza. Rimango sempre esterefatto, più fatto che estere, la scienza.